Farmacia Mari, la tua farmacia di fiducia. Ogni giorno professionalità, dialogo e cortesia al tuo servizio. Prodotti di alta qualità, dedicati alla cura e alla bellezza della persona. E ricorda, nella nostra farmacia è possibile eseguire l'elettrocardiogramma con refertazione rapida e autoanalisi con risultati immediati, con uno sconto del 20%. Farmacia Mari, vicina a te ogni giorno.